Lavoratori degli UTR in sciopero con un sit-in davanti alla prefettura. Un paradosso tutto italiano e loro, che li vede vincitori di un concorso a tempo indeterminato ma ora a rischio di mobilità o addirittura di perdere il lavoro. Arrivano da tutti gli uffici dei comuni del cratere. Contrattualizzati con i comuni, ora dopo la soppressione degli uffici territoriali della ricostruzione, dipenderanno dall'OSRC, ma il rischio è che non troveranno un ente che possa subito riassorbirli e si apra per loro la strada della mobilità. Noi abbiamo vinto un concorso a tempo indeterminato con una commissione interministeriale a Roma nel 2013 ma è stato fatto un errore, siamo stati contrattualizzati, noi vincitori e destinati agli UTR con degli... Gli UTR, ricordiamo, sono gli uffici territoriali per la ricostruzione post-sisma. Attualmente soppressi dal 1 luglio. Siamo stati contrattualizzati con enti che non avranno la capacità di riassorbirci, quindi è una mobilità prefigurata. Ad oggi non vi è certezza alcuna, neanche sul tipo di contratto, e c'è da dire che molti lavoratori hanno preferito lasciare questa situazione di incertezza per trasferirsi altrove, in altre sedi. I sindacalisti sono stati ricevuti dal prefetto dell'Aquila, Linardi, che ha ascoltato le loro richieste e il loro problema. Vogliono risposte ai lavoratori che siano certe, perché ad oggi la situazione è alquanto nebulosa. Loro per il momento stanno continuando a lavorare in questi uffici, che sono divenuti però degli sportelli. Continuiamo comunque a lavorare, certamente con grande difficoltà, perché siamo un attimino così disorientati, in quanto manca un'organizzazione funzionale dell'ex UTR8, che adesso è Sportello 8 dell'USRC. A fine mese comunque prenderete lo stipendio? Io penso per continuità sì, ma diversamente non le saprei dire se poi ci dovessero essere degli sviluppi. Al momento sono un dipendente del comune di Barisciano.